What's On! What's On! Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's On! Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Un corto per dire no alla violenza sulle donne, al polo del Novecento, in sala Novecento, alle 18.30, alla proiezione del video inedito 3 km di freddo, produzione liberamente unico, un cortometraggio che raccoglie due anni di lavoro sul tema, capovolgendo il punto di vista e concentrandosi sulle cause culturali e sociali che possono portare alla violenza, aprendo una nuova strada di conoscenza e consapevolezza. Dibattito a fine proiezione, a cura del Centro Studi Piero Gobetti e della lavanderia Vapore, con intervista a Barbara Altissimo. Sempre nell'ambito della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle 17.45, in diretta streaming su www.giovediscienza.it, Francesco Bonchi, della Fondazione Isi e Teresa Numerico dell'Università di Roma 3, intervengono su pregiudizi artificiali, stereotipi di genere, tradati e algoritmi. Alle 16.30 all'Archivio di Stato, in Piazza Mollino 1 a Torino, Gianfranco Gritella interviene su L'Artificio, la Magnificenza e il Mito, la Fontana d'Ercole e il Tempio di Diana nei Giardini della Venaria. Organizza Pro Cultura Femminile e Ingrasso Libero. E all'eventura al Circolo dei Lettori, il giornalista Maurizio Crosetti racconta il suo libro Imperfetti, i miti controversi dello sport, con Dario Voltoni, ingresso libero con Green Pass. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto in regia. Rosario Perez What's on? What's on? In Piemonte What's on? Lo trovi anche su zipnews.it